eccomi 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 buonasera amici e amiche rosso neri ragazzuoli ragazzuole belle buona serata di questo lunedì 19 dicembre 2022 ci avviciniamo al natale e vi mando un abbraccio a tutti sia che lo passiate bene e sia che siete un po incerti su come lo passiate questo natale ragazzi forza e coraggio sempre mi raccomando forza e coraggio sempre sono le ore 17 44 a approfitto di questo momento di pausa qui nel mio studio per informarvi sulle notizie del nostro milan e quello che ci ruota intorno l'uomo copertina lo avete subito visto il nostro magico mike magnan ma adesso arriviamo a lui verso la fine di questo video io ridendo e scherzando vi ho detto tempo fa ogni tanto ve lo ripeto penso che sicuramente molti di voi cioè scusate gioco di parole penserete che io stia scherzando che stia facendo un po di flor colore per venire qua a passare un attimino due minuti di tempo ma così non è lo ripeto i miei familiari i miei amici lo sanno ho una dote di sensitività spiccata e voi potete anche non crederci non mi interessa ma così è quando parlo le cose succedono allora numero uno ha azzeccato la vittoria finale del mondiale ho detto ultimamente che messi è l'argentina e messi voleva a tutti i costi vincere questo mondiale lo ha vinto e adesso ne parliamo un attimino e poi non avrei voluto azzeccare un'altra previsione che ho fatto poco tempo fa ma lo ripetiamo anzi scusate ve lo dico alla fine di questo video bene adesso facciamo questa prefazione un attimino doverosa prima di partire sulla notizia di maniano allora lo sapete che dopo la mancanza del grande sinistra Mialovic come professionista come uomo oggi c'è stato tra altre cose il suo funerale a Roma e erano presenti molti molti personaggi illustri nel mondo dello sport e quant'altro e abbiamo saputo anche questo fine settimana dopo la mancanza di Mialovic quella di Mario Sconcerti allora io voglio mandare le condoglianze alla famiglia Sconcerti ma una cosa la voglio dire fuori dai denti per quanto mi riguarda per me adesso con la mancanza di Mario Sconcerti come giornalista sportivo inerente all'ambito calcio al mondo del calcio per me per quello che mi riguarda nel panorama giornalistico non c'è più nessuno nessuno parlo di giornalista che parla e scrive di calcio 360 gradi non c'è più nessuno la mia stima verso Sconcerti era una stima incredibile tante volte anch'io ero in disaccordo con Sconcerti quando scriveva editoriali che obiettivamente forse andavano a cozzare un po' con quello che è il sentimento di noi milanisti giusto perché è ovvio che quando si va a prendere nel vivo a noi chiamiamo la nostra squadra del cuore così come potrebbe essere per altri tifosi delle loro squadre Mario Sconcerti un attimino stuzzicava un po' il nostro disappunto ma io personalmente parecchie volte nel mio canale sia nel primo canale che mi è stato accherato e cancellato sia questo nuovo canale ho sempre letto delle considerazioni di Mario Sconcerti perché per me era una penna sopraffina nel mondo del giornalismo che parla di calcio per cui a mio modo di vedere lo ripeto ad ora ad oggi non c'è nessun giornalista come Mario Sconcerti per cui un abbraccio e condoglianza alla famiglia di Mario Sconcerti così ancora come rinnovo le mie condoglianze alla famiglia di Mialovic ragazzi sono mancanze veramente pesanti nel mondo dello sport per personaggi che si stimano che almeno io stimo soprattutto questo anche ultimo oltre che persona Mialovic Mario Sconcerti e vi dico la verità il suo editoriale quello di Mario Sconcerti mi mancherà devo essere sincero perché alla mattina lo seguivo sempre sull'editoriale adesso non ci sarà più un editoriale di Mario Sconcerti questo è quanto è un dato di fatto allora ragazzi passiamo alla notizia un attimino adesso una notizia un po' più leggere ma sempre nell'ambito del nostro calcio sempre in questa prefazione lo sapete ormai tutti non c'è bisogno che ve lo dico l'Argentina è campione del mondo per cui complimenti alla Nazionale Argentina per essere campione del mondo devo dire la verità che figuraccia che ha fatto il portiere dell'Argentina Martinez veramente una figuraccia incredibile con quel gesto vicino al suo diciamo membro sessuale perché questo è veramente ha fatto una figuraccia incredibile come anche una figura non molto bella di questa vestigia catariota che gli è stata messa quando Messi ha alzato la Coppa del Mondo vabbè lasciamo perdere in un'analisi della partita va bene non è che lo dico io ma è un fatto di cronaca lo sapete molti tifosi milanisti hanno obiettato contro Deschamps si sono scandalizzati perché Giroux è stato tolto al 41esimo del primo tempo bene allora io lo dico fuori dei denti questa mossa di Deschamps è stata una mossa lo dico con rispetto parlando in confronti di Deschamps a mio modo di vedere veramente sporca per non usare un altro termine veramente irrispettosa uso questo altro termine più educato che vorrei dire altri termini perché Deschamps da un certo punto di vista ha fatto tutto bene o quasi ma tranne questa mancanza di rispetto nei confronti di Giroux che Giroux insieme al nostro Teo Hernandez hanno portato oltre che gli altri elementi della Francia la nazionale francese è ovvio però hanno contribuito maggiormente a portare la Francia dove è andata cioè fino alla finale togliere un giocatore come Giroux che sai che ci tieni che sai tu come allenatore che Giroux ci tiene che Oliver ci tiene e che ci vuole mettere tutto per dare il suo contributo lo toglie al 41esimo senza aspettare l'intervallo è una mancanza di rispetto totale quando un allenatore toglie il suo giocatore al 41esimo lo ripeto senza aspettare il 45esimo senza aspettare il 48esimo il 41esimo è una cosa scandalosa è scandaloso poi ritornando sul discorso della partita praticamente nel primo tempo in questa finale di ieri che la Rai ha fatto man bassa di ascolti 13 milioni e pass esistente solo l'Argentina nel secondo tempo si è svegliata la Francia di Mappé e praticamente si è andato poi ai supplementari calci di rigore lo sapete tutti non c'è bisogno che ve lo spiego un'altra cosa che trovo a mio modo di vedere scandaloso è che il miglior giocatore il premio è andato a Messi quando in realtà secondo me se lo meritava Mappé però è anche vero che Messi come io vi ho detto questa è la previsione che ho azzeccato lo ripeto a quanto pare quando parlo succede succedono le cose non mi chiedete i numeri del superenalotto o altre balle varie perché non li do neanche sotto tortura e poi non ci azzecco mai nemmeno io su me stesso anzi anche perché non faccio nessuna gratta e vince robe varie sì beh intanto qualcuno perché non me lo sento nelle vene io le cose me le devo sentire nelle vene però insomma Mappé a mio modo di vedere meritava il premio non Messi però ripeto io ve l'ho già detto un po' di video fa prima di questo video testimoniatemelo qua sotto nei commenti che praticamente si è messo in spalla l'Argentina Messi ha voluto vincere questo mondiale per ritirarsi per ritirarsi anche perché penso che sia l'ultimo anno quello che verrà al Paris Saint Germain se Messi vorrà e poi si ritirerà in Argentina molto probabilmente non lo sappiamo ancora ma per me così sarà per cui insomma da questo punto di vista ragazzi questa prefazione era dovuta perché sono cose che sono fatti avvenimenti molto importanti di cui dovevo parlare a proposito c'è una notizia dell'ultima ora sono le ore 17.52 approfittando sempre di questa pausa per informarvi che praticamente il 27 gennaio in Italia nella Serie A subentra il semi allora il fuorigioco scusate semi-automatico e anche qui verranno fuori altri casini preparatevi ad altri casini che verranno fuori perché quando il semigioco cioè scusate il fuorigioco semi-automatico subentrerà vedrete che ci sarà sempre qualcuno o qualcosa che dirà che non era così e per cui preparatevi preparatevi assolutissimamente e adesso veniamo a quella che in un attimo sì in un attimo in un attimo si fa per dire però la notizia della copertina di questo video allora ragazzuoli e ragazzuole parliamoci molto fuori dai denti questa è un'altra previsione che ho azzeccato ma non volevo assolutamente azzeccarla e adesso vi dico cosa ne penso io questa è una sensazione che ho poi vedremo fra un po' di tempo se la mia sensazione è azzeccata allora oggi si viene a sapere perché voi lo sapete abbiamo anche questa partita con il PSV Eindhoven dopo Natale il 30 dicembre insomma avete saputo Mike Magnan non giocherà questa partita perché sembra che quel famoso polpaccio che ha dato problema a Mike Magnan che non lo ha fatto giocare con la sua nazionale e di questo me ne dispiaccio perché se Magnan era con la sua nazionale a mio modo di vedere sui rigori non so come sarebbe andata a finire per me è facile che la Francia avrebbe vinto avesse vinto scusate poteva vincere il mondiale ecco meglio parlare però ha passato remoto però il discorso è questo ragazzi io ve lo dico sinceramente allora si viene a sapere che questo polpaccio non è ancora risolto e si viene a sapere che Sportiello potrebbe essere anticipato come acquisto dalla Atalanta per gennaio e non l'estate prossima questo cosa vuol dire anticipato come acquisto che a gennaio dovremmo sicuramente ricompensare di qualcosina ma non di una cifra mostre l'Atalanta perché invece in estate sarebbe arrivato praticamente quasi a zero cioè a parte quelle commissioni e tutto il resto avremmo dovuto solo pagare questa mossa cosa vuol dire vuol dire solo una cosa che prima di tutto devo anche specificarlo e fare anche qui una prefazione non è ancora certa al 100% perché nei prossimi giorni si verificherà Mike però questa mossa vuol dire che ci vogliamo mettere con le spalle al muro sul proseguo del nostro cammino in Champions League perché ragazzi è un dato di fatto noi non ci possiamo sorreggere per la difesa della nostra porta su Ciprian Tatarasano ragazzi allora io non so più come dirvelo io devo dirti grazie Ciprian per quello che hai fatto con il nostro Mina quello che hai potuto fare ma ci stiamo preparando ci dobbiamo preparare dobbiamo affrontare un avversario comunque pesante allenato da Antonio Conte il Tottenham ok non è il Tottenham di qualche anno fa che era un Tottenham che spaccava tutti gli avversari però non va sottovalutato soprattutto il Tottenham giocherà alla grande il fatto che noi questi ottavi li supereremo li supereremo solo con un lavoro di squadra e con i nostri giocatori pienamente in forma ma quando importa non hai un portiere di cui ti puoi completamente fidare per le sue qualità e soprattutto che fa una regia per la nostra difesa senza offese Ciprian allora praticamente fai arrivare un attimino prima Sportiello che ha quel tempo di preparazione per poi giocare questa importante partita a febbraio qui sembra che sto già dando per scontato che Maian non ci sarà e qui vi faccio una previsione vi ricordate che qualche video fa ho detto che Mike a mio modo di vedere quello che mi dà da pensare su Mike è la sua parte inferiore del corpo perché ragazzi lasciate stare il polso di un anno fa e passa e tutto il resto ma non è la prima volta che succedono dei guai fisici a Maian nella parte inferiore del corpo cioè delle gambe qui non è che ci intravedo una certa fragilità muscolare ma penso che ci sia qualcosa nella preparazione atletica di inizio campionato che non sia andata per l'ennesima volta e penso comunque che qualcuno abbia fatto o qualcosa abbia affrettato ancora la ricostruzione di questo benedetto muscolo a Mike c'è qualcosa che comunque ancora non è andato si è saputo oggi che a Dubai Maldini si è messo a parlare molto con Mike di sicuro tutta questa situazione non fa bene a Mike ha saltato un mondiale salterà ancora all'inizio della ripresa di questo campionato di Serie A e come andrà a finire? come andrà a finire? ragazzi io non lo so il polpaccio è uno dei muscoli più importanti del portiere perché il portiere si deve elevare e con cosa si eleva? non si eleva solo con il busto le braccia i quadricipiti delle gambe di tutto il resto ma guarda caso con il polpaccio una delle parti più importanti in assoluto della gamba di un portiere la situazione non volevo che si arrivasse a questo non volevo che succedesse questo non volevo che la mia previsione fosse azzeccata ma la situazione inizia veramente a preoccuparmi il mio sentore mi dice che Manian prima della partita del Tottenham con il Tottenham contro il Tottenham non lo vedremo in campo non lo vedremo in campo ci dovremmo beccare ancora Cipri e Tatarasano in campionato molto brevemente ci dovremmo beccare quello che non volevo quando io ho detto avevo anche auspicato ritroveremo Manian dal 4 gennaio bene così non sarà insomma io qui veramente spero che non si crei un problema fisico per il nostro Mike perché sarebbe veramente non dico una disgrazia ma poco ci manca perché il ragazzo è un ragazzo un serio professionista una persona in gamba è un carismatico che questo ragazzo questo ragazzone il nostro magico Mike Manian abbia questi problemi nella parte inferiore delle gambe veramente mi fa un po' preoccupare mi fa veramente un po' preoccupare spero che a Mike tutto vada per il meglio che si rimetta il più in fretta possibile ma alla grande cioè che stia bene con i suoi muscoli con il suo famoso polpaccio disastrato perché questo ragazzo non si merita non si merita di stare fuori non se lo merita per niente io adesso esulo dal discorso del nostro Mina di parlare che lui lavora per il nostro Mina come portiere ma io parlo per lui perché Mike in questi mesi ha dovuto buttare giù dei magoni amarissimi lo ripeto quando non giochi con la tua nazionale quando non giochi con il tuo club di appartenenza sei lì che non riesci a capire cosa a cavolo succede nella testa te ne passano di ogni caro Mike Magnani io ti mando un grosso abbraccio e guarda mi impegnerò mi sforzerò con la mia testa per mandarti un'onda positiva e farti star bene il più fretta possibile perché te lo meriti mi raccomando mangia in modo sano non sforzarti stai lì bello tranquillo e spero di rivederti speriamo di rivederti almeno per la partita del Tottenham in Champions League poi se sarà prima sarà ancora meglio per cui adesso vedremo se Sportiello arriverà prima vedremo nei prossimi giorni cosa succederà quali saranno gli aggiornamenti medici ma ragazzi la situazione è questa bisogna avere un po' di pazienza e insomma sono un po' dispiaciuto per Mike vi dico la verità sì sono un po' dispiaciuto vi mando un abbraccio forza Milano sempre comunque ovunque e in ogni caso deve essere sempre uno spettacolo perché le difficoltà devono veramente far rialzare e andare avanti almeno io personalmente nella vita nella mia vita sono così e spero anche voi ciao ciao ciao